Ho girato e mi girato senza sapere dove andare ed ho gelato a presso fisso, seduto accanto ad un dolore. Come stai? Come stai? Come stai? E mi fanno compagnia, quaranta amiche dei miei cari, anche il mio cane si fa fuori e abbaglia la malignoli. Come stai? Come stai? Come stai? Come vivi? Come trovi? Chi viene a prenderti? Chi ti apre lo sportello? Chi segue ogni mio passo? Chi ti prelemona e ti domanda adesso? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Tu cosa pensi? Dove cammini? Chi ti ha portato via? Chi scopre le tue spalle? Chi si stelle al tuo fianco? Ciao maci cuore ce video? Why stai le tue spalle? Tu come stai, tu come stai, tu come stai, tu come stai, non è cambiato niente, no, il vento non è mai, lo ha salto fra di noi, tu come stai, non è accaduto niente, no, il vento non ci ha mai perduto, come stai, tu come stai, tu come stai. Tu come stai, 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 tu come st Grazie per la visione!